154 marco fabio quintiliano 35 96 oratore romano e maestro di retorica per la prima volta stipendiato dal fiscus imperiale si allontano dal logicismo basato sulla teoria dell'argomentazione in declamazione dice vanno male le faccende umane quando rimane soltanto la fede negli interessi materiali commento forse quintiliano è giunto a dire che vanno male le faccende umane dopo essersi allontanato dalla logica della mente grazie 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 a tutti